Io oggi veramente a vedere giocare questo ragazzo è un piacere perché come si muove, come si smarca, come passa la palla sono contento perché ha passato due anni veramente d'inferno per quello che ha avuto, ha tenuto duro, non era semplice bisogna gestirlo, bisogna valutarlo, abbiamo l'Under 23, ora parleremo con il ragazzo per capire qual è il percorso migliore perché possa fare un anno di recupero anche a livello di partite e di minutaggio per far sì che l'anno prossimo sia pronto al 100% e questo sarebbe una buona cosa sia per la Juventus ma soprattutto per lui perché vedere giocare è veramente un piacere perché ha le movenze del grande giocatore.